Musica Abitudini quotidiane, alimentazione, attività fisica, stili di vita e stati psicologici, tutti i fattori cosiddetti trasversali ma straordinariamente importanti nell'ambito della prevenzione e della cura del paziente oncologico e dismetabolico. Se ne è discusso nell'ambito del convegno organizzato dal Laboratorio Analisi Cliniche Serroni dal titolo Prevenzione e Trattamento delle Patologie Metaboliche Oncologiche, svoltosi lo scorso 23 aprile presso l'Auditorium San Martino a Fermo. Nato dalla volontà di far conoscere anche a un pubblico generico l'incidenza di questi fattori trasversali, il convegno ha raccolto gli interventi dei principali esperti e specialisti sia in campo medico sia nel settore dell'informazione. Moderatore dell'incontro, infatti, il noto giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza, che ha ricordato il fondamentale ruolo dei media e l'importanza di una stretta alleanza tra medici e mezzi di comunicazione ai fini di una maggiore sensibilizzazione e di una corretta educazione dei cittadini alla prevenzione. Io sono molto felice di essere stato coinvolto in questo tipo di discussione. Effettivamente, secondo me, è importante che i mezzi di informazione, la televisione, si avvicinino al mondo della medicina, soprattutto quando si parla di cose delicate come il cancro, e viceversa, che i medici non si sentano ostili o diffidenti nei confronti dell'informazione. Ci vuole un'alleanza per diffondere nell'opinione pubblica alcuni principi fondamentali, grazie ai quali si può vivere meglio e ammalarsi di meno. Per esempio, la prevenzione, che è un concetto che grazie ai medici e grazie ai mezzi di informazione sta passando da come si mangia, ci si alimenta, al fatto che bisogna muoversi un pochino durante la giornata, possibilmente tutti i giorni, anche naturalmente per quello che è possibile ai propri umori e riuscire ad avere anche un atteggiamento nei confronti della vita non pessimistico, malgrado le difficoltà e anche le crisi che ci sono. Ecco, tutte queste cose importanti possono venire fuori e diventare senso comune con questa alleanza tra i medici e gli esperti della comunicazione. Particolarmente seguiti dal numeroso pubblico presente, gli interventi del dottor Ivano Ferri, oncologo, sull'importanza delle cure integrate e sulla necessità di seguire il paziente a 360 gradi e della dottoressa Paola Pantanetti, endocrinologa, che ha spiegato l'effettivo significato del termine qualità di vita e il forte condizionamento che tale qualità subisce in presenza di patologie metaboliche. La qualità di vita rappresenta una definizione più globale, non è assenza di malattie, ma è un benessere fisico, psicologico, sociale e addettato anche da alcuni determinanti personali, dal contesto familiare in cui si vive, dal reddito, dalla produttività, da determinanti anche, come dire, legati all'ambiente, alla qualità del clima, dell'aria. Quindi è un concetto che va al di là della malattia di per sé, ma ingloba più concetti. Andando invece nello specifico, le patologie metaboliche non vengono percepite in modo così grave come altre, però impattano sulla qualità di vita? Esattamente. L'opinione pubblica ha un concetto di benignità della malattia metabolica. Il problema è che sono malattie di lunga durata. Il soggetto, il paziente, può convivere con 20, 30, 40 anni con quella malattia e gli effetti sono devastanti, soprattutto a livello cardiovascolare. Per cui, da parte degli operatori sanitari, di coloro che gravitano nel mondo dell'informazione, si dovrebbe cercare di capire, effettivamente, la lunga durata di questa malattia per meglio affrontarla. Un esempio, lei ha parlato, ad esempio, del diabete. Il diabete è una malattia di lunga durata. Spesse volte, a parte il diabete tipo 1, che è un diabete che esordisce in età pediatrica, per cui l'individuo convive con questa malattia per tutta la vita, il diabete di tipo 2 è quello che più si associa a malattie metaboliche, quali l'obesità. E sicuramente la sfida è proprio in questo ambito, perché nel diabete tipo 2 possiamo intervenire soprattutto con la dieta, cercando di sovvertire quella che è la sedentarietà, cercando di stimolare anche all'attività fisica. Significativi in tema di nutrizione, gli interventi della dottoressa Milena Malvestiti, che ha illustrato il ruolo dell'alimentazione e dell'attività fisica ai fini della prevenzione, e della dottoressa Edi Virgili, che ha invece esplorato la funzione dell'alimentazione nel trattamento dei dismetabolismi e delle patologie oncologiche. Entrambe le dottoresse hanno invitato i presenti a riscoprire il cibo e l'alimentazione della nostra tradizione. Una corretta nutrizione, una corretta attività fisica ci consentono di mantenere un peso corporeo costante nella vita e che rientra nei parametri di normo peso, ovvero un indice di massa corporea tra 18,5 e 25, e quindi questo ci permette di prevenire le più comuni patologie, appunto la sindrome metabolica e lo stesso cancro. Questi sono dati VCRF e anche di tutte le altre associazioni che operano a livello mondiale. Ecco, numerosi sono i problemi legati all'alimentazione, alla nutrizione, ormai nella nostra epoca. Lei ha parlato anche dell'obesità, ad esempio. Eh sì, perché l'obesità è il maggior fattore di rischio dopo il fumo per l'insorgenza non solo del cancro, ma anche dei più comuni dismetabolismi e spesso e volentieri l'obesità è correlata al diabete di tipo 2, condizione patologica che comporta poi una bassa qualità di vita, tutta una serie di conseguenze cronico-degenerative che minano la qualità di vita del paziente. E obesità che è sempre più in crescita a livello mondiale, tanto che un bambino su tre oggi effettivamente è obeso. E questo è un allarme che ci riguarda tutti, non solo sanitario ma a livello sociale. E quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione è il ritorno a una cultura del corretto rapporto con il cibo, con l'alimentazione fatta a casa, curata all'interno della famiglia, che vuol dire non più semplicemente il cibo veloce, perché effettivamente non si ha tempo per cucinare, da dedicare alla preparazione del cibo che alla fine diventa parte del nostro stesso corpo. Di conseguenza riappropriamoci di quelle che sono le tradizioni, la cultura che ci hanno sempre accompagnato e che purtroppo in media, spesso e volentieri, ci hanno fatto perdere. Per cui torniamo a riscoprire le nostre tradizioni, quello che ci si è sempre tramandati. Oggi quello che diciamo sostanzialmente era già noto dai nostri nonni. Ricordo mio nonno che diceva sempre fai una colazione a re, un pranzo da principe e una cena da poveretto, tutto questo per mantenersi in forma. Ed effettivamente mio nonno è morto a 85 anni in perfetta forma, senza un filo di grasso, in buona salute. Dottoressa Edi Virgili, il ruolo dell'alimentazione nel trattamento dei dismetabolismi, delle patologie oncologiche, alimentazione che lei ha detto inizia ancora prima che a casa, ma addirittura quando compriamo i prodotti da mangiare? Assolutamente sì, è prioritario reimparare a fare la spesa, ovvero veramente cercare prodotti freschi, di stagione, di qualità, cercare di andare nelle aziende agricole, anche per valorizzare poi quelli che sono i nostri prodotti locali e quindi acquistare prodotti veramente freschissimi, non addizionati di conservanti, coloranti e via dicendo, che possono veramente darci qualcosa di utile per l'organismo, garantire tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. E tra l'altro alimentazione che ovviamente varia in base all'età, in base alla persona, in base al problema? Assolutamente sì, ognuno ha una diversa necessità di apporto dei nutrienti, ovviamente se parliamo di un bambino dovremmo tenere in considerazione una fase di crescita, quindi dovremmo mettere assolutamente sostanze che permettono la crescita e lo sviluppo del bambino, se parliamo di un paziente oncologico, al contrario, dovremmo mettere un'alimentazione che blocca la crescita delle cellule tumorali, quindi siamo veramente gli antipodi e non solo, quando parliamo di pazienti oncologici, pazienti comunque affetti da malattie, dobbiamo tenere in considerazione anche tutti i farmaci, tutte le medicine che vengono utilizzate, il tipo di terapie che si fanno, perché anche in questa situazione l'alimentazione è fondamentale. Ricco e particolareggiato l'intervento finale della dottoressa Liuva Capezzani, psicologa e psicoterapeuta, che ha illustrato il forte ruolo giocato dallo stress sociale e familiare e i fattori di rischio biopsicosociali nell'ambito della prevenzione delle patologie oncologiche. Dottoressa Liuva Capezzani, i fattori di rischio biopsicosociali correlati all'insorgenza e all'evoluzione delle malattie oncologiche? Sì, sono fattori correlati a loro volta fra di loro, per questo si chiamano fattori biopsicosociali in un'unica parola, perché stanno insieme, quindi sono fattori che hanno a che fare con l'infiammazione cellulare che deriva da uno stress emozionale spesso, ma anche con fattori ambientali, sociali, relazionali come le relazioni, lo stile di attaccamento che le persone hanno con le proprie figure di riferimento, i curanti in particolare. Ci sono fattori psicologici, nello specifico come la resilienza, l'auto-efficacia percepita, la capacità di percepire il rischio, ma in particolare dobbiamo fare attenzione anche a un certo tipo di personalità, che è cosiddetta personalità di tipo C, che è una personalità inassertiva, che ha difficoltà ad esprimere le proprie emozioni, che tende a reprimere la propria sofferenza, questo sia prima della malattia, andando ad incidere su livelli di frustrazione, e di compressione che possono poi sfociare in una patologia non necessariamente oncologica, ma anche oncologica. E tra i fattori, diciamo che uno dei modelli che contempla tutti questi fattori è il modello PNE, il modello psico-neuro-immunologico, che ci parla di un meccanismo a circolo vizioso, dove gli stimoli esterni vengono elaborati e arrivano ai centri nervosi, che producono ormoni, adrenalina e noradrenalina, che vanno a poi sollecitare il sistema immune, e il sistema immune finisce per infiammare gli organi. Quali sono le linee generali di prevenzione? Se parliamo di prevenzione primaria, in generale parliamo di informazione, parliamo di educazione, parliamo di programmi divulgativi, informativi. Nelle scuole, per esempio, ci sono le social skills programs, cioè sono dei programmi che aiutano i ragazzi a maturare delle competenze, competenze di tipo cognitivo, come la capacità di prendere decisioni, la capacità di risolvere problemi, competenze che riguardano la capacità di relazionarsi con gli altri, e quindi di favorire la sicurezza interpersonale, di favorire lo scambio interpersonale, ma capacità anche di competenze che riguardano anche la capacità di gestire lo stress. Quindi, non so, potrebbe riguardare la respirazione, potrebbe riguardare alcuni esercizi fisici, potrebbe riguardare la capacità di normalizzare alcune situazioni che d'impatto potrebbero essere lette e percepite come troppo gravi ed essere catastrofizzate quando non lo sono. Ma la vera prevenzione, poi, fondamentalmente, è quella che noi facciamo su noi stessi, assumendoci la responsabilità delle nostre scelte, nei nostri percorsi, domandandoci se ci sentiamo sicuri, se ci stiamo ascoltando nel nostro corpo, se il nostro corpo ci sta inviando dei segnali che meriterebbero un accertamento più approfondito, e bisogna avere questa mentalità che contempli anche una percezione di rischio e una vulnerabilità personale, perché non siamo invulnerabili, perché prima o poi ci ammaleremo, perché comunque dobbiamo avere a che fare anche con questo nella vita. iscriviti al nostro canale